La Robur ritrova il sorriso dopo 6 sconfitte consecutive e torna alla vittoria nella sfida interna contro la Sam. Con l'aiuto della grafica virtuale analizziamo le immagini. Il primo tempo è un film già visto, squadre bloccate, poche occasioni e gioco frammentato. Il primo tiro in porta è dei bianconeri. Reginaldo esegue il suo scaratteristico movimento a rientrare e chiama in causa Romero. Nella ripresa, il ritmo si alza leggermente e la Sam si fa vedere in zona gol. Costa serve il rimorchio di Poli, che impegna Pegolo per la prima volta. Le fortune della Robur passano dai neoentrati Sesto e Bogdani. De Silvestri e Castadello interpretano male il cross dell'esterno bianconero e Bogdani a gioco facile nel trafiggere Romero per il vantaggio. Nel finale, la Sam si sbilancia e la Robur ha diverse occasioni per chiudere i conti. La migliore capita sui piedi di Bogdani, che si allunga il pallone ed è costretto a calciare da posizione defilata. In un finale pieno di nervosismo, i bianconeri riescono comunque a portare a casa la vittoria. Tre punti necessari a tenere in vita le speranze e salvezza, in attesa di conoscere gli esiti del calcio mercato. Per adesso è tutto e a me non resta che darvi appuntamento alla prossima lavagna. Ciao a tutti!